Ciao a tutti, come riconoscere il narcisista nascosto o il narcisista covert? Allora, è più difficile riconoscere il narcisista nascosto o il narcisista covert perché tiene un basso profilo, mentre il narcisista, ad esempio, istrionico, per certi versi è più facile riconoscerlo perché ti fa vivere, diciamo, momenti indimenticabili, il narcisista istrionico è più difficile, è più facile riconoscere, è più difficile anche sganciarsi, comunque, dall'istrionico perché ti fa vivere, diciamo, momenti indimenticabili, romantici, spinge al massimo il suo romanticismo e ti fa vivere tutta una serie di cose. Invece il narcisista nascosto si presenta in modo più subdolo, con un basso profilo, dimostrandosi un cucciolotto indifeso, per cui va ad agganciare soprattutto le persone, le donne, anche gli uomini, che hanno vissuto una conflittualità materna, perché vogliono essere protettivi, che tendono ad essere protettivi verso gli altri. Quindi si presenta in questo modo e quindi, diciamo, si presenta proprio con un basso profilo, dimostrandosi bisognoso o dimostrandosi bisognosa e elevando te al ruolo di divinità, diciamo, a cui rivolge con umiltà, diciamo così, le sue attenzioni. E piano piano si insinua facendoti vivere il senso di colpa, facendoti pensare che senza di te non può vivere e quindi, e poi piano piano inizia a, e quindi in questo modo, a cercare di isolarti. Inizia a cercare di isolarti dicendo che tu sei cattiva o cattivo, che vai con altri, che fai altre cose, che non ti preoccupi, che lui o lei pensa solo a te, che non ha occhi che per te, insomma cerca di isolarti. E poi però piano piano gradualmente viene fuori il narcisista che ha dentro, col condizionamento, quindi inizia tutta una sorta di ricatti emotivi, morali, basandosi soprattutto sul senso di colpa. Ecco, diciamo che il narcisista covert, nascosto, punta molto sul senso di colpa, amplifica molto il senso di colpa. Quindi è difficile riconoscerelo perché la prima fase, quella del love bombing, avviene in modo mascherato, in modo subdolo, non, cioè dimostrandosi inferiore, cioè dimostrandosi bisognosa. Ecco quindi, e però, infatti non aggancia tutto il covert, ma aggancia moltissimo le persone che tendono a vivere il senso di colpa, che hanno un aggancio sul senso di colpa, e le persone che hanno un aggancio sulla situazione, diciamo, legata alla conflittualità materna, perché vanno a ricercare persone che siano, diciamo, bisognose, no? A livello logico e razionale magari vogliono l'uomo affermato di successo, ma poi si innamorano dei falliti pieni di problemi. Questo è un po' il ragionamento. Quindi devi cercare di cogliere questi segnali per smascherare il narcisista nascosto. Per questo video è tutto. Mi raccomando, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al canale attivando la campanella, perché così potrai partecipare alle live e ricevere risposte alle tue domande. Ciao!